Sai che questo è l'intro? Va bene. Io faccio... Devi capire il... Sono corde da Dario? Sì! E questa è la tua chitarra? Sì! Ed è della Jackson? Sì! E quindi si stai truccando? Sì! Sai cosa manca in questo video? Cagnolino! Allora... Sono bella? Ma chi? Io sto dicendo la chitarra! No, io chiedo! Beh, oh! Sto consumando memoria per fare... Chi meeeen! Chi meeeen! Cagnolino! Chi meeeen! Vai! Sono bella? Sì! Ok! Hi guys! We are... Hi everybody! I'm Sheena from Frozen Crown. Today we are here to show you how to change the strings to a hardtail guitar. With also locking tuners. And this guitar is a wonderful Chris Broderick HT6 Jackson. Ah, which brand of strings are you adding? We are using Daddario strings. I think we are putting on XT this time. Ok. It's the first time for me to use XT strings. But do you have a deal with Daddario? Yes! And our friend, the product specialist Alessandro Tuvo, gifted me these wonderful guitar strings to try. Che meeeen! Che meeeen! Don't tune the guitar to cut the strings because otherwise the strings will cut your eye and we don't like that. I didn't have the eye, but... Eye? No, no, vabbè. Eye. Okay. Then we are going to cut the strings. Noooo! Cioè, fare una cosa così... Are you doing something so... Drastic. Si. Ah, ok. Because I don't need these. They are old. Every time I change strings I store them somewhere. So I have like... So you have more used strings than the new ones. Than new ones, yes. Which is useful, no? Si, because I could use them some day. Cioè, praticamente sono un accumulatore, diciamo. Ah, ottimo. Si. Oh, mio Dio! Ah! Ok. Che beeeen! Che beeeen! Che beeeen! So, I was... Inside. Inside my eye. I... I didn't get hurt. But I felt that like the air. Mm-hmm. So, we are... We have to, you know, open the locking tuners, which I forgot. questo è perché io non ho cambiato le strumenti ok look how cute how cute so the next step we need to clean this dirty thing right here because it's at the dirtiest at the moment so they're going to it's something to clear the fingerboard I'll show you how dirty what kind of dirt is that? the sweat of my fingers months of sweat sweat of my fingers but also the still yes but also the ruggine I think also some sand because at rock imperium there was a lot of wind and a lot of sand guarda come spruzza ok ora userò la spazzolina per dargli una pulita che questo non piace ai metallari? no penso che questo non piaccia ma alle persone che vogliono il manico pulito potrà piacere sai che questo è un video ASMR praticamente no so once again I go with the cloth I know I'm using a lot of spray but I never change string so Ah! That's the regular quantity of product ASMR You see? You see that? That's why you need to use this thing So I'm going once again with the brush Oh, if I can say something This is an old t-shirt Don't buy clothes for your instrument Use something you already have But I don't like to waste my old t-shirts Yeah, because you like to put them on with all your holes Si But I think that's enough for me In today's it would be dirty as before So Next step we are going to put some oil This is lemon oil So the wood will get again brighter and hydrated I put quite a lot but you'll see that when I when I go here here it would be already like quasi asciugato almost dried 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 It's very easy I told you now I'm going to stop because I want to show you the ASMR to hear and hear It doesn't work and now we let it dry for some minutes We are now going to dry the oil better with the cloth so that it penetrates in the wood This is a ASMR with a lot of conditator What do you think? I think I can't hear I can't hear ok ora apriamo il pacchetto questo è il 1046 di goji perché ora posso dire goji grazie al nostro amico Aletuvo ma come le bacche di goji? sai qual è il mio commento sull'orecchio sinistro che sta fuori? no, sai qual è? eh perchè l'hai coperto? e la ora vedo anche questa cosa perchè non mi ricordo il colore sai sempre devo guardare sì sono 12 anni che ho giocato la gitarra e ancora non mi ricordo quale strana è quale strana? non so come si dice in inglese quale strana è quale strana è quale strana ok quindi penso che sia la prima nooo ho dimenticato dentro la borsa penso il pezzo di corda che uso quello di Vicky questa borsa? no la borsa dell'avance se vedendo ci sono anche i vestiti se vedendo ci sono anche i vestiti chi mai allora qui c'è un jack celeste eccola chi mai ok questo è molto importante con questa gitarra questa è una piece di bassistrino string non string bassistrino che l'icchi aveva lasciato ma ho bisogno questo è da la show in Genova con Nona World still questo è importante perché non ricordo la color ok questo è l'icchi quindi guardate qui mettere questo qui ma come vedete questo non è la celletta con questa stola potremmo 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 non so se è una cosa comune su questa gitarra ma se è usate un bassistrino bassistrino per pulire la gitarra poi poi il rosa posso dire un commento su questa procedura? vai commento chi mangia? non non è facile cambiare su questa gitarra se sei vivo e hai capito assomni sospeso questa questo invece bisogna comprare la gitarra Sì mille vorrei ora potremmo fare tutte le gitarra vedrai fine People they good No, faccio proprio papà Perché più tondo lo fai Più quando lo cuoci viene ancora più palla Invece lo faccio più schiacciato Schiacciato Questo era il tutorial per fare un hamburger Sì Allora, tutte le strade sono qui A questo punto Siamo anche a clean Il corpo della gitarra Pure E la paletta Che non so come si chiama Headstock Sì, sì Perché se metti le strade Puoi clean Quindi Siamo a prendere il prodotto Per clean Il corpo Bella 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 Quindi stai pulendo pure sta cosa Sì Allora, anche la parte because sweat is everywhere then we have to insert the strings on the tuners so the trick here is that this shouldn't be also for the locking tuners but I don't trust anyone or anything so I don't trust even locking tuners I like to do more than one like you know wrapping around the tuners so the trick is to have the perfect length of the string to put on the tuner you have to go to the next tuner then going back to the same height bend the string so it's gonna be there forever and then you have to lock the tuner now I don't want to so it's gonna be you do it in automatic you do it in automatic you do it in automatic oh my god what a lock like that like that fixed Questa è una smr perfetta. Quindi qui hai la quantità perfetta di stringa sul tuner. Quindi tu aspetta l'hai messo fin qua. Sì, calcolate la stringa fino al prossimo tuner. Prendete la volta. Prendete. E' tutto. Bello, non ho capito niente. Perfetto. Quindi non hai troppo stringa qui o troppo meno. Perché se si rompe o qualcosa succede, non hai troppo stringa per farlo. E anche con questo tricco... I'm going to cut my eye. La corda non si sovrappone. You're not overlapping the string. Si sovrappone a cosa? A si stessa. Perché se c'è troppo stringa qui, Tu hai il rischio di creare qualche spazio tra ogni circolo della stringa. Si si si. E sarà senza tono. Ogni volta che spieghi. Va bene. Quindi devi portare il tutto parallelo alla stringa. Portarlo alla prossima. Là e indietro. Indietro. Prendete. Lock il tuner. Cioè questo è un trick alla... 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 Non lo so. Take this thing for lazy people. Ma non è che b*********da. Cioè cosa ci vuoi dimostrare facendo tutto in automatico? Il tipo di creare la strana in, Isso è perché. Fiore che hung uteroんだ la strana in polту. La strana inmusica. La strana sia ё' un cl benchmark dithird crew. Ficcine. Come c'è chi vuoi? Alla strana in protestos sociale dell'esp squ glazio! Altrane. Eclare di potere una strana inzug richtigezione. the strings but playing to stretch playing to stretch the strings will require a lot of time so what are we going to do now now we're going to take the cloth we used before and come here come here come here come here we take the string and we do this you're going to stretch the strings this side and inside i using the clothes so i don't like cut my my fingers so you are stretching the strings even before tuning it because you know if you tune the guitar then you're going to play it then the strings are stretching then you have to tune it again it's an endless so this is a trick to change the strings and have it ready to play on the go be careful not to like put too much power in it so you don't break anything put power on on the thumb and on the index on the opposite way that's it you're ready to play to tune it and play ok hai finito quindi si dovrei tunarla ma we like it this way so hope you guys enjoyed this chat with me this change change of strings and this asmr 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 and yeah if you like this video remember to put a like put a comment ask us whatever video you would like to see and turn on the notification bell so you're gonna receive a notification for the new videos and bye i'll see you in the next video gimme enna gimme enna